Kiffi in prima fila, Miele dell'Orso, Miracle BF in seconda. Stacco. Davanti Masterpiece CC attaccato da Passione Cara, Passione che sfila su Masterpiece. Poi Prometeo Lance, rimasta arretrata Nicol Grada all'esterno e Osiris d'Alfa, lungo la corda Miracle BF. Allargo Nirvana L, 200 iniziali in tredici e mezzo, con Passione in vantaggio, Masterpiece di rincalzo, avanza decisa all'esterno, Osiris d'Alfa. Ed è Osiris che va su Passione e sfila al termine della prima curva, Osiris, Passione, poi Masterpiece IC, Prometeo Lance, Nirvana L all'esterno, 600 in 45 e scarso per Osiris d'Alfa, che sulla retta opposta alle tribune guida sempre davanti a Passione Cara, Masterpiece IC all'esterno. Intanto il passaggio a metà gara per Osiris d'Alfa in un minuto appena abbondante, terza ruota per Pravda De Greppi, Osiris al comando sul finire della retta opposta e all'imbocco della curva conclusiva. Il passaggio al primo chilometro per Osiris in 1,15 scarso. All'esterno Masterpiece in terza Pravda De Greppi lungo la corda Passione con allargo Miracle BF per Varchi, Prometeo Lance, poi Nirvana L. Siamo a 400 dal termine, gruppo compattissimo e partita ancora aperta, Osiris, Masterpiece che attacca all'esterno, Passione lungo la corda, allargo Miracle BF, poi Prometeo Lance a 2,50 alla conclusione, Osiris sotto l'attacco di Masterpiece, Passione che fila i due all'interno, sbaglia Prometeo Lance, prova ad intervenire anche Miracle BF, Osiris, Masterpiece che insiste, Masterpiece IC che passa in vantaggio, prova anche Passione Cara, Masterpiece IC, su forse Passione batte Osiris, poi Miracle BF al quarto posto, Masterpiece IC, Barbara Renzulli, il training di Alessandro Dettoris, i colori della scuderia Cavalier King, aspettiamo di rivedere le immagini con la telecamera posta in linea col traguardo per vedere i distacchi del secondo posto, mentre Masterpiece ha chiuso netto vincitore, direi in 14,6-14,7 potrebbe essere la media al chilometro, 9,20 la quota al totalizzatore, eccole le immagini finalmente, Masterpiece al primo posto, Passione sì, nettissima, mamma mia, c'è quasi una lunghezza, al secondo regolando Siris D'Alfa, quarto Miracle BF e poi vediamo scorrere le immagini e il quinto posto, direi per Nirvana L anche perché Prometeo Lanza ha sbagliato. Dunque Masterpiece IC vince l'ultima del convegno premio Negrotto con Barbara Renzulli in Salchi. Venerdì 30 maggio ci saranno le corse a Follonica, non dimenticate quindi una data tipica perché di solito si è sempre corso il lunedì in questi ultimi mesi, invece venerdì 30 maggio ci sarà una giornata di corse all'inizio più o meno come sempre di questi tempi intorno alle 15, 30, 15 e 40. A tutti la più cordiale buonasera da Via Riverti, appuntamento quindi a venerdì prossimo.